buongiorno buongiorno a tutti buongiorno carissimi iscrivetevi al canale condividetelo seguitemi sui social ovviamente instagram e twitter e allora quest'oggi sono qui a presentarvi una di quelle idee favolose un'idea favolosa favolosa da tanto favolosa che non me la ricordo più vediamo chi becca la citazione in ogni caso è una di quelle idee favolose che mi vengono quando sono al cesso e diciamo che quest'anno voglio proporre un format che può essere replicabile anche nelle stagioni venture che cosa la pap la pangasiale accademia delle pontatine cioè la versione calcistica youtubistica di un seminario diciamo fatto con il sottoscritto quale professore va bene quale accademico in cui vi spiego che cos'è una pontatina di calciomercato come imparare a fare le vostre eccitanti a casa le vostre eccitanti pontatine di calciomercato e non solo e non solo questo percorso qui come qualsiasi tipo di seminario di corso terminerà con un esame e con una premiazione vado a spiegarvi quello che è il menu che vi offro il menu del seminario che trovate anche qui a fianco potete screenshotarlo conservarlo metterlo nella vostra 24 ore quando andate in altri a fare altri esami capito quindi questo è il menu lo pubblico anche sui social che vi vado a proporre il tutto il tutto inizia quest'oggi con questo video di introduzione e di invito e si sostanzierà anche domani che è martedì dopo domani che è mercoledì e culminerà giovedì sera andiamo a vedere i singoli appuntamenti oltre oltre ad oggi oggi è un'introduzione nella quale vi spiego proprio come è fatto il corso il corso è formulato in due lezioni diciamo audiovisive del sottoscritto la prima domani alle ore 15 in cui vi spiego che cosa vuol dire pontatina da un punto di vista ontologico terminologico filosofico che cos'è una pontatina in cosa si sostanzio il termine pontatina la sua applicazione al calciomercato e allo scibile filosofico il giorno dopo vi spiego come costruire una vostra perfetta pontatina di calciomercato come la si fa con esempi pratici proprio prendendo le varie connessioni e costruendo una pontatina da andare a proporre agli eccitati astanti e il tutto si concluderà ragazzi giovedì sera con una live pubblica ok in cui ci sarà l'esame finale e la premiazione dei vincitori e del vincitore finale come si struttura questa live qui allora ci saranno tutti i partecipanti la live pubblica ci saranno tutti i partecipanti connessi che per circa un'oretta rispondendo alle mie domande in chat metteranno le loro puntatine per esempio un foglio davanti e vi dico a tutti i connessi ragazzi ditemi l'esterno destro che deve fare il milan e arrivano tutti i messaggi di voi che partecipate questo per circa un'oretta io in quell'oretta lì farò una prima scrematura ok dalla quale emergeranno cinque partecipanti le cui puntatine mi hanno impressionato durante quell'ora di prima scrematura questi cinque partecipanti saranno da me nominati gli manderò il link di streamyard per partecipare in diretta con me ad una ulteriore scrematura in cui io sono da una parte dello schermo e loro cinque nell'altra e dovranno rispondere solo loro in diretta video di fronte a tutto il pubblico alle puntatine che gli dico io ok di questi cinque ne rimarranno tre e qui siamo alla fase finale tre che vanno poi a costituire il podio finale che accederanno ad una ulteriore prova quella finale sempre uguale cioè con loro tre sullo schermo e io da una parte che gli faccio domande difficili con puntatine più difficili e lì emergerà il primo vincitore di questa prima edizione della pap di questo primo seminario della pap quindi ci sarà un podio con i tre ma ci sarà anche il vincitore finale che sarà poi nominato ringraziato e a cui sarà reso onore su tutti i miei social ok quindi vi vado a spiegare dopo questo video di introduzione ci saranno due video questi sono per gli abbonati per tutti gli abbonati base intermedio e avanzato ok i due video di lezione e di preparazione a questa serata di puntatine sono per gli abbonati base intermedio e ovviamente anche avanzato ok la live invece sarà pubblica quindi le due lezioni dovete prenderle come una sorta di preparazione molto gradita ok come un prof universitario che vi dà l'opportunità di partecipare agli esami da non frequentante però diciamo che frequentando è molto più è molto più diciamo simpatetico e molto più è molto più bello è molto più forte la preparazione che poi si va a dare nella serata però uno può anche scegliere di presentarsi diciamo da non frequentante anche se vi consiglio di non perdervi le due lezioni quindi ci sono le due lezioni una domani una dopo domani per tutti gli abbonati anche base la live finale giovedì sera sarà aperta a tutti potete partecipare tutti e ci sarà una prima fase con una scrematura di tutti vi ripeto che ne rimangono cinque di questi cinque ne rimangono tre e lì si fa la prova finale la live avrà una durata solita di una qualsiasi live che facciamo sul canale quindi attorno alle due orette e mezza circa e alla fine di queste due orette e mezza ci sarà il vincitore che sarà diciamo il delfino il delfino delle pontatine di calcio mercato questo è il programma da domani prima lezione per abbonati base intermedio avanzato la definizione di pontatina filosofica ontologica e tutto quel che ci riguarda seconda lezione dopo domani sempre alle ore 15 esempi pratici su come si costruisce una perfetta pontatina di calcio mercato ok giovedì 24 ok live aperta a tutti in cui si fa l'esame finale e in cui si decidono i vincitori ovviamente mentre studiate mentre vi preparate gradirei anche che voi vi mi mi mandaste su instagram alessandro catto 91 le foto per esempio i video di voi che davanti allo specchio video di 10 secondi di voi che davanti allo specchio vi esercitate a a fare puntatine di calcio mercato davanti allo specchio perché è tutto è tutto diciamo una prova per me del vostro impegno di cui terrò conto mandatemeli su instagram video di 10 secondi che ricondividerò di voi che davanti allo specchio vi esercitate a dire puntatine però dopo le lezioni quindi le lezioni sono strettamente consigliate la live pubblica e ne rimarrà solo uno ne rimarrà solo uno ovviamente se voi vi vergognate ad apparire in video su stream yard magari evitate sapete che per vincere dovete passare attraverso questa scrematura live vi ripeto in live iniziamo tutti se ci sono 200 collegati ci saranno 200 220 persone che mi dicono le loro puntatine io con l'occhio di falco le osservo vedo le persone che sono più brave a rispondere alle mie domande ne seleziono cinque quelle cinque già iniziano ad essere chiamate in video li andiamo di puntatine già più complesse di quei cinque ne restano tre e lì c'è la prova finale ne deve emergere solo ok ovviamente quando c'è la fase a 5 e a 3 apprezzo anche le domande che il pubblico vuole fare a questi cinque nel senso che se ci sono i classici alunni bastardi diciamo di quelli che vogliono fare i cocchi del professore che che mi dicono di fare una domanda cattiva con una puntatina veramente difficile può essere che io gliela faccia però ripeto è tutto puntatine è tutto puntatine se volete partecipare alle due lezioni abbonatovi va bene va benissimo anche la versione base e poi ci vediamo in live e lì sarà decretato il vincitore finale e la live ovviamente è pubblica e aperta a tutti va bene spero vi piaccia questo 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 programma spero vi piaccia il logo insomma può diventare veramente un appuntamento continuo da fare da fare in tutte le sessioni di calcio mercato il calcio mercato ancora aperto anzi ci avviciniamo alla data ferale alla settimana decisiva e quindi a maggior ragione la maggior ragione accademia delle pontatine accademia delle pontatine pensate la soddisfazione di dire io sono io sono il delfino delle pontatine sono diplomato alla papa in pontatina di calcio mercato il non plus ultra a presto a domani si inizia con le lezioni puntuali